bambini e bambini benvenuti io sono nartico e io sono mimi la puntata di oggi sarà una puntata terrificante spaventosa da brividi insomma hanno capito c'è una bella puntata ma insomma io però volevo dire che sarà una puntata piena di mo di mocio di mollette no neanche mollette di monti di molle motori no di mostri di mostri in artico meglio delle mollette effettivamente allora bambini e bambini seguitemi mi raccomando andiamo in sala di registrazione con un passo a tema sì ciao eccoci qua la casa stregata è una canzone magica una canzone un po paurosa partiamo subito dal suo ritmo il ritmo della canzone di oggi è questo ora che conosciamo il ritmo passiamo agli accordi gli accordi della canzone di oggi gli accordi della casa stregata sono questi beh direi che conosciamo sia il ritmo che gli accordi dobbiamo solo unirli per formare la musica della canzone di oggi la musica della casa stregata è questa sentiamola beh direi che la musica c'è andiamo subito a scoprire con mimi qual è il testo della canzone grazie in artico eccomi bentornati in postazione che atmosfera da brividi ora impariamo insieme il testo della canzone di oggi vediamo quali sono le due parole principali del ritornello e come sempre per trovarle giriamo la nostra cosa dello zecchino le parole della canzone di oggi sono casa e paura leggiamo insieme il ritornello di la casa stregata e mi raccomando prestate attenzione alle due parole che abbiamo messo in evidenza casa e paura quella casa che ha molti per la strada fa paura è per loro un bel ritrovo un'isola sicura anche se a nessun'altra che conosci lei somiglia ti assicuro che anche questa è una gran famiglia avete trovato nel testo le due parole principali di oggi? casa e paura i mostri vengono allontanati perché fanno paura e sono considerati diversi ma esiste un posto in cui possono essere amati per quello che sono e sentirsi a loro agio quella è casa la casa stregata la musica c'è il testo anche non ci resta che cantarla vai in artico grazie mimi adesso abbiamo tutto siamo prontissimi bambini bambini da casa andiamo a cantare la casa stregata c'è un mostro con tre teste che si sta guardando in giro con sei occhi cerca un letto per dormire come un ghiro quella casa che ha molti per la strada fa paura è per loro un bel ritrovo un'isola sicura anche se a nessun'altra che conosci lei somiglia ti assicuro che anche questa è una gran famiglia grazie in artico e grazie anche a voi che ci avete seguito da casa siete stati fantastici mi raccomando ripassate bene la canzone guardate il video e arriverete prontissimi e carichissimi a zucchino 66 l'appuntamento lo conoscete ci vediamo alla prossima puntata di canta impara ciao c'è un mostro con tre teste che si sta guardando in giro con sei occhi cerca un letto per dormire come un ghiro quella casa che ha molti per la strada fa paura è per loro un bel ritrovo un'isola sicura anche se a nessun'altra che conosci lei somiglia ti assicuro che anche questa è una gran famiglia